Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Ok ragazzi oggi si va avanti col mese di novembre qui con il nostro Real Saragozza 4 partite da disputare questo mese In più ragazzi per la quinta partita vedremo la sfida del 3 dicembre contro il Leganess Quindi ragazzi ormai ufficializzo le 5 partite d'episodo Cioè secondo me quando non c'è il calciomercato per in mezzo fare i 5 partite secondo me è la cosa giusta Comunque ragazzi come sempre prima di iniziare a giocare io vi invito a lasciare un mi piace Iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi Anche a commentare qualsiasi vostro dubbio o consiglio o perplessità A seguirmi sulla pagina Instagram e a sostenere il canale tramite un abbonamento e ad una donazione Detto ciò ragazzi direi che possiamo scendere subito in campo per la prima partita di oggi Real Saragozza contro Viedo terzo in classifica quindi sinceramente la vedo molto complicata Ci sono dei piccoli cambi di formazione l'unico in realtà è Badia che gioca fra i pali al posto di Gomis Metto Badia perché mi ha chiesto di scendere in campo sto continuando a fare questa alternanza con i portieri Anche se ragazzi a lungo andare io vorrei giocare sempre ovviamente con Gomis Comunque direi che possiamo scendere in campo a prima partita di oggi siamo tutti pronti La squadra comunque piano piano continua a crescere anche a livello di overall ogni Cioè spesso vedo ogni puntata l'aumento di qualche valore quindi sono sicuramente contento da questo punto di vista Soprattutto Stroikens ragazzi Stroikens si sta dimostrando veramente un ottimo giocatore veramente forte Comunque ragazzi oggi siamo in bianco quindi non ci confondiamo come è successo nel finale della scorsa puntata Dove nella partita contro i Burgos mi sono confuso e appunto ho scambiato la mia squadra con l'altra Comunque ragazzi vanno velocissimi non so perché vanno così veloci Comunque ragazzi una cosa che non ho mai visto dovrebbero esserci delle impostazioni Perché ho visto altre carriere qua intanto arriva il tiro da parte di Monlego ma troppo centrale Ho visto che tipo si può modificare che a posto del cerchietto intanto lo aiuto passa in vantaggio Ma ragazzi oggi questa mi sa che la perdiamo perché sono terzi in classifica e non siamo sicuramente a livello loro Comunque ho visto in altre carriere che tipo invece dei pallini si possono mettere i triangolini e robe del genere Così roba di personalizzazione diciamo Non so se è una cosa che è solamente per il gioco su PC oppure se si può fare effettivamente anche qua Nel dubbio ragazzi se lo sapete potete chiaramente dirmelo nei commenti Comunque ragazzi siamo a partire molto male oggi Per carità anche nell'ultima partita contro i Burgos abbiamo rimontato una situazione di svantaggio Ma di 1-0 il 2-0 come sempre è molto più complicato da rimontare Però ragazzi come ho detto prima oggi Cioè in questa partita ho bassi aspettative come ho detto onestamente Visto che appunto stiamo affrontando una squadra che secondo me lotterà per salire in prima divisione spagnola Diciamo che le partite da vincere sono altre Non è sicuramente questa qui Però i nostri tre tiri in porta li abbiamo fatti Nulla di estremamente pericoloso Anzi tutt'altro Quindi secondo me possiamo fare ben poco Però ragazzi speriamoci comunque Crediamoci comunque Speriamo di riuscire a fare un secondo tempo molto più all'altezza del nostro pubblico Perché comunque siamo anche in casa Quindi sarebbe un peccato vederci uscire sconfitti così a testa bassa Tra virgolette Quindi cerchiamo di rialzarci in questo secondo tempo Proviamoci subito qua con un fuorigioco abbastanza netto da parte di Strovigens Comunque ragazzi hanno borca no che non penso sia broia no ragazzi assolutamente no Non so perché mi è uscito broia Comunque qua colpiamo addirittura la traversa con il Lenichena Peccato ragazzi Veramente sfortunati Occhio anche al contropiede da parte dei nostri avversari Forse secondo me il gol per riaprire la partita ci poteva stare Per rendere il tutto un pochino più spumeggianti Un pochino più imprevedibile Un po' di suspense Comunque ragazzi mi sa che non arriverà nessuna suspense Tutt'altro Comunque occhio che possiamo provare a ripartire Niente Manu Vallico Non c'entra la porta Direi che possiamo fare i nostri soliti cambi Come sempre per provare a fare qualcosa in più In questi praticamente 10 minuti finali Che ragazzi sicuramente ci daranno ben poco Secondo me Visto che la partita è bella tosta e complicata Quindi vedo uno viedo nettamente vincitore Proviamo a ripartire adesso per trovare almeno il gol della bandiera Ma ragazzi Per dire 2 a 0 2 a 1 alla fine secondo me cambia poco Ma non riusciamo a trovare manco il gol 3 a 2 a 1 Comunque ragazzi peccato 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 Perché vabbè poteva finire anche di più in tragedia Poteva essere un risultato anche molto più ampio Però Occhio Ok non arriva il 3 a 0 2 a 0 finisce qua la partita Abbiamo tirato di più in porta Però ragazzi come detto Mai nulla di veramente veramente pericoloso A parte quella traversa colpita Comunque seconda sfida di oggi Adesso tocca l'Elche Che è un'altra partita molto molto complicata Da affrontare Addirittura abbiamo Angulo convocato Col Messico in nazionale Dal 16 al 22 novembre Vediamo se effettivamente scendiamo in campo Dal 16 al 22 Si salterà la partita contro l'Uesca Peccato ragazzi Comunque appunto scendiamo in campo Elche contro Saragazza Partita sicuramente molto complicata È praticamente ragazzi È la stessa partita Che abbiamo visto prima contro L'Ovieto Quindi secondo me anche oggi Riusciremo a fare ben poco Anzi secondo me oggi Sarà addirittura peggio Comunque ragazzi Non ho parlato della formazione Oggi siamo in nero Ok ricordiamoci sta cosa Appunto non ho parlato della formazione Praticamente formazione migliore al 100% Intanto qua che è una morosa occasione Per Manu Vallego Peccato Comunque formazione di titolare al 100% Anche con Gomis al suo posto Lejkovic eccetera eccetera Quindi Questa qui è la formazione Che voglio mandare avanti Per tutta la stagione Ci riusciremo Ci riuscirò Non lo so però Sicuramente ci spero Comunque ragazzi Occhio all'Elche Che prova subito A essere molto pericoloso Infatti trova Il go del vantaggio Con Guti Addirittura Però peccato che lì Manu Vallego Aveva avuto un'occasione Veramente clamorosa Non è riuscito a sfruttarlo Vabbè Sicuramente Non è questa la partita da vincere Ma Nel frattempo Il gol Manu Vallego Lo mette Lo stesso 1-1 Arriva il gol Del pareggio Bene così ragazzi Secondo me Siamo avendo un ottimo Siamo avendo un ottimo atteggiamento oggi Quindi Sono fiducioso Che la mia squadra Possa fare una buona partita Però È chiaro che Soffrire È inevitabile Però ragazzi Se ogni tiro Subiamo gol Diventa molto complicato Comunque ragazzi Comunque 2-1 Per l'Elce Manco il tempo Di festeggiare il pareggio Che sono tornati subito In vantaggio Cerchiamo di strozzargli Anche a loro Lullo in gola Ci riusciamo Ilenichena 2-2 Partita spettacolare Per il momento 4 gol In 35 minuti Quindi Partire veramente Fuori dal comune Cerchiamo Però Di renderla appunto Equilibrata Anche Anche di più Niente ragazzi 3-2 Qua ogni tiro Che si fa il gol 5 gol In un tempo Pensate che bella partita Comunque ragazzi Proviamo a rivareggiarlo Un'altra volta Vediamo un po' Se continua Questa altalena Di emozioni Comunque Ci siamo fatti Fare doppietta Da Guti Che non so Se è il figlio Però Sembra essere Forte come il padre Comunque Finisce 3-2 All'intervallo Per i nostri avversari 5 tiri a testa Quartita molto Equilibrata Quindi Cerchiamo di trovare Il gol del pareggio Perché contro l'Elce Chiaramente Un pareggio Non mi farebbe schifo Visto che sono Secondi in classifica Quindi Fare un punto Contro di loro Sicuramente Sarebbe Importante Però ragazzi A parte tutto Stiamo avendo Dei risultati Dei risultati Molto Molto Attalenanti Più negativi Che positivi Qua ragazzi Abbiamo avuto La chance Per il 3-3 Ci riproviamo Con il Lenny Che ancora Non riesce A trovare il gol Ragazzi Le chance Che ci concedono Sono poche Poi Non riusciamo Manca a sfruttarle Proviamoci adesso Con Coleosho Palla dentro E arriva Il gol Del 3-3 Stroikenza Segna ancora Dai ragazzi Dai ragazzi 3-3 Crediamoci Crediamoci Cerchiamo di fare Un secondo tempo Senza soffrire Perché ragazzi Il problema è questo Ogni volta Che segniamo Hanno il contratto Scritto Che devono Tornare in vantaggio Quindi vuol dire Che purtroppo Questa partita Finirà In sconfitta Per noi Questa è quella Classica prova Che posso fare Anche 7 gol Ma Il nostro avversario Lecce Farà sicuramente L'ottavo gol Quindi ragazzi Non possiamo farci nulla Vabbè Accettiamo la sconfitta Ma Sicuramente Mai come oggi Usciremo dal campo A testa Altissima Abbiamo avuto la chance Anche del 4-4 Ma non si può Evidentemente Comunque ragazzi Proviamo ad affacciarci in avanti Per l'ultima volta oggi Ma L'occasione L'abbiamo sprecata Proviamoci adesso Non c'è stata Manco l'opportunità Di fare i cambi Visto che La palla Non è praticamente Mai uscita A parte Dopo i gol Comunque ragazzi Vediamo un po' Se si riesce Di imbastire L'azione Perché perdono palle Quindi Come voleva il gioco Questa partita La vince L'Elce Molto bene ragazzi Seconda sconfitta consecutiva Ok ragazzi Adesso si va in campo Contro l'Uesca Sesto in classifica Quindi ragazzi Continuiamo ad affrontare Squadre che sono Sulla carta più forti E meglio piazzate Rispetto a noi Ci sono chiaramente Le gambe di formazioni Praticamente obbligate Visto che Mourinho deve Giocare al posto Di Angulo Visto che Angulo È in nazionale Poi ragazzi Badia mi ha chiesto Per l'ennesima volta Di scendere in campo E quindi io Lo vado ad accontentare Sperando sempre Che questa cosa Possa portare fortuna Però ragazzi Abbiamo visto che È raro che funzioni Comunque ragazzi Anche oggi Siamo con la magliettina bianca Se giochiamo Come contro l'Elce Questa partita La riusciremo a vincere Perché ragazzi Abbiamo fatto Un'ottima prestazione Contro l'Elce Abbiamo perso Perché erano proprio Più forti rispetto a noi Abbiamo subito 4 gol addirittura Quindi Però l'abbiamo fatti 3 Quindi questo vuol dire Che siamo riusciti Ad attaccare A costruire azioni offensive Potevamo praticamente Vincere la partita di prima Soprattutto per le occasioni Costruite E per i diri in porta Che abbiamo fatto Ma purtroppo Anche grazie al portiere Avversario Non siamo riusciti A trovare La via Non dico Della vittoria Almeno del pareggio Però ragazzi Dai oggi sono Più fiducioso Più speranzoso Qui oggi è Manu Vallecu In area Che guadagna Un calcio d'angolo Che Miglin Va a battere Ma non batte benissimo Secondo me Comunque Ancora che siamo in avanti Con Miglin Che riesce A metterla dentro Per Manu Vallecu Che poi La mette dentro A sua volta Dentro la porta E siamo in vantaggio E siamo in vantaggio 1-0 Ragazzi Molto bene Così Siamo in vantaggio Perfetto Stiamo facendo Come detto Una bella partita Cerchiamo Di Continuare Con questo Parte nostra Molto bene Un tiro Un gol Perfetto Ragazzi E' quello che bisogna fare Visto soprattutto Che veniamo Dalla partita Di prima Però anche loro Fanno un tiro Un gol Quindi adesso Siamo pari In tutti i sensi 1-1 Peccato ragazzi Però io rimango Comunque ottimista Secondo me Si può Fare una bella partita Oggi Vediamo Se riusciremo A costruire Qualcosina di meglio Ma purtroppo ragazzi Purtroppo 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 La vedo comunque Complicata Adesso loro Stanno iniziando A giocare Quindi E' veramente Complicato Riuscire A tornare In vantaggio E tantomeno Anche Mantenere Il pareggio Secondo me Comunque Noi ci proveremo Lo stesso Vediamo se riusciremo Però innanzitutto A recuperare il pallone No Perché L'uesca Passa Indirittura In vantaggio 2-1 Niente ragazzi Addirittura Subiamo La rimonta E si sta avvicinando La terza sconfitta Consecutiva Il lini Kena qua Non riesce a mettere dentro Peccato Proviamo a fare i cambi Eh ragazzi Una sconfitta Oggi Mi farebbe stare Molto triste Perché Secondo me Oggi si poteva fare Ma purtroppo Manco oggi Ci riusciamo Comunque Arrivano i cambi Come sempre I soliti cambi Che faccio sempre Vediamo un po' Se porteranno Fortuna Tra virgolette Ma Mi sa di nuovo Perché non riusciamo Comunque ad avanzare Peccato ragazzi Peccato Peccato Vediamo un po' Se si riesce A recuperare Almeno per il pareggio Nel senso Se si riesce A dividere Almeno la sconfitta Ma Si vede proprio Che la palla Non ce la faranno Mai riprendere Quindi purtroppo Sta per arrivare La terza sconfitta Consecutiva Niente ragazzi Purtroppo Non si riesce A vincere Contro Se squadre Che Hanno una posizione Migliori In classifica Rispetto a noi Possiamo provarci Qua per l'ultima azione Ma è cross E' tremendo Ma Arriva Un gol Fortunoso Con Franco Serrano Almeno ragazzi Non la perdiamo 2 a 2 Uscire sconfitta Da questa partita Sarebbe stato Veramente un peccato 2 a 2 Non è stata Una grande partita Per esempio La partita con l'Erci È stata molto spettacolare Però ragazzi Mi tengo stretto Mi tengo stretto Questo pareggio Per 2 a 2 Che comunque Però ci fa restare Nelle zone bassissime Della classifica Addirittura Possiamo scendere Al ventunesimo posto Infatti così Siamo penultimi In classifica Ragazzi Perché le squadre Sono 22 Quindi ragazzi Penultimi In classifica Magnifico Ok raga Quarta partita di oggi Contro l'Alba 7 Che è una squadra 17esima in classifica Quindi qua Teoricamente Si potrebbero portare A casi 3 punti Ma ovviamente Sappiamo benissimo Che non sarà semplice Anzi Comunque Ragazzi Allora La formazione Quest'oggi Vede Praticamente solamente Amador In campo Al posto di Angulo Che sì È tornato dalla nazionale Perché è stato convocato In nazionale Ma Purtroppo È ancora abbastanza stanco Quindi Preferisco far giocare Amadorro Oggi Perché mi ha chiesto Anche di scendere in campo Quindi Scelgo di mettere lui Sul centro-sinistra E Lekovic A centro Per il resto Ragazzi È la formazione Titolare Chiaramente Raga Oggi Non mi aspetto nulla Ragazzi Non mi aspetto nulla Siamo in nero Quindi Vediamo un po' Se riusciremo A fare una buona partita Ragazzi Ovvio che È essenziale Portare a casa I tre punti Ci mancherebbe altro Perché Siamo in una situazione Veramente critica Siamo 21-issimi In classifica Quindi penultimi Comunque ragazzi Passiamo subito in vantaggio Devo dire che I miei attaccanti Comunque segnano Nel senso Cioè In ogni partita Riescono ad essere Pericolosi Secondo me È questione di tempo Prima che riusciremo A trovare la quadra Ragazzi Completare la stagione A metà classifica Sarebbe un miracolo Secondo me Perché Togliamoci già Dalla testa Da ora che Non diciamo Il fatto di salire In prima divisione spagnola Secondo me È impossibile Però ragazzi Io Come ho sempre detto Avevo messo in conto Nella situazione del genere Perché Voglio che sia Una carriera Anche lenta Tra virgolette Dove Una Stagione Scorre via Molto in fretta Però Appunto Che sia lenta Dal punto di vista Che si possono giocare Anche 7-8 stagioni Per raggiungere I nostri obiettivi Chiaramente Giocando sempre In questo modo È chiaro che Si va molto Molto in fretta Effettivamente Ragazzi Cinque partite Ad episodio Si va molto in fretta Infatti ragazzi Nella prossima puntata Che è la Che è la decima Già siamo arrivati A mercato di Riparazione Che per i miei standard Ovviamente È una situazione Molto rapida E precoce Tra virgolette Comunque ragazzi Concentramoci Su questa partita Che Oltre al nostro Gol Praticamente Ha visto ben poco Da parte nostra Ci hanno provato I nostri avversari Ma Tutto sommato È un vantaggio Che ci può stare Adesso ragazzi Occio al secondo tempo Che sicuramente I nostri avversari Faranno qualcosina in più Però Occio subito Che siamo in avanti Con Manu Pallego Purtroppo Perde palle Quindi Si riparte Si riparte Si riparte Vediamo un po' Vediamo un po' Qui ragazzi Abbiamo rischiato Di subire Il gol del pareggio Ma fortunatamente Il tiro è fuori Forza Comis Forza Comis Vediamo un po' Vediamo un po' Se la situazione Può migliorare Ok Bravo Maglin Qui a recuperare Palla Bella dentro Per Manu Pallego Che l'appoggia Con le Osho Che non riesce a trovare I gol del raddoppio Ma sarà comunque Calcio d'angolo La palla che rimane lì Si salva L'Alba Sete Però Ancora una palla Riconquistata Ancora Dalle nostre avversari A nostra volta Riconquistata Da noi Occhio Manu Pallego In area Stroikens La palla rimane lì Per il Ilenichena Che non riesce A cacciare in porta Dai ragazzi Dai Sicuramente Il gol lo subiamo Quindi bisogna fare Il 2-0 Dai ragazzi Vi prego Maglin Porta palla Maglin Porta palla Maglin Non l'ha portata molto Si può provare ad avanzare Manu Pallego Ha provato a far correre Ilenichena Ma La palla non è passata Dai ragazzi Dai Dai Che siamo al 78 Dai Parata Da parte Di Comis Madonna Mia ragazzi L'ansia Di questa partita Valera in campo Iran Kuda E Aguado Come sempre Ok Andiamo ragazzi Mancano 10 minuti Cerchiamo di resistere Occhio all'Alba La sede in attacco Dei ragazzi Potenzialmente L'ultima sofferenza Ancora Comis Che riesce a parare Palla dentro Comis La tiene lì Fra le sue braccia Fra le sue Caldissime braccia Tiene lì il pallone Ma Valera Non lo contiene Perde subito il pallone Occhio qui Bravissimo Lecovic Che si impone Esce Dalla difesa E riusciamo Ragazzi A vincere Questa partita Vittoria Molto Molto Importante Tre punti Che ci danno Un po' di ossigeno Ma Comunque Ragazzi La situazione È molto Critica Addirittura Siamo quindicesimi In un colpo solo Ma Molte squadre Devono ancora giocare Comunque Ragazzi Molto Molto Bene Offerta Addirittura Di trasferimento Per Aguado Che secondo me Mi ha chiesto Di essere ceduto Ok Peccato di sta cosa Però Alla fine Lui entra in campo In ogni partita Quindi secondo me Ha poco senso Che un giocatore Chieda la cessione Comunque ragazzi Io vado a trattare Perché Giocatori Che sono tristi Non li voglio Perché già la situazione È complicata Quindi Non voglio altre problematiche 5 milioni e mezzo Che sono tanti Sinceramente Vediamo un po' Se il giocatore Accetterà La destinazione inglese Effettivamente ragazzi Lui è un 72 Noi facciamo Giocare Meglin Che è un 70 Quindi Ci può stare Che si lamenti Perché dice Cioè Pensa di essere migliore Tra virgolette Comunque ragazzi In primavera C'è questo Ali Che è un COC Prova diciamo A crescere Però Non è nulla Di eccezionale Chiaramente Per il momento Non lo scarto Perché è già un 61 Però è chiaro Che difficilmente Avrà futuro Avrà futuro Con noi Comunque ragazzi Adesso affrontiamo Il Leganess Che è i nostri stessi Punti in classifica Comunque ragazzi È il momento Scendiamo in campo A partita Molto importante Perché Siamo in un gruppone Di squadre Che è tutto Tutte 17 punti Quindi Cerchiamo di Staccarci Rispetto agli altri Ma Sicuramente ragazzi Non sarà Un'impresa semplice Siamo con la formazione Titolare Almeno sulla carta Con Gomisa Angulo Lekovic Francese Molle Come Glyn Serrano E Coleosho Strojkens De Michena E Vallecco Come detto ragazzi La squadra Continua a crescere Quindi Vediamo un po' Vediamo un po' Se la situazione Può migliorare Comunque Siamo pronti Si scende in campo Vediamo Se riusciremo A fare una bella partita Il Leganess Però sulla carta Avrebbe essere Una squadra Molto forte E pericolosa Spicca Il verde Della loro maglia Sinceramente Però ragazzi Noi ovviamente Siamo i I bianchi E subito Gomise Che deve fare L'intervento De ragazzi Oggi Belli concentrati Questa partita È da affrontare Nel modo corretto Forza ragazzi Dai proviamo a ripartire Con Molleco Palla per Maglin A cercare Strojkens Che paga in avanti Delle Michena Che allarga Da Coleosho Che purtroppo Perde il pallone E c'è l'opportunità Per il Leganess Di andare avanti Qui Bravo Francesa Di evitare anche Il calcio d'angolo Comunque Ragazzi Vediamo un po' Se riusciremo a costruire Una prima azione Perché per il momento Il Leganess Non lascia veramente Uno spiraglio Come si difendono bene Quindi Sarà veramente complicato Arrivare Nell'area avversaria Ma ci stiamo riuscendo Qui con Strojkens Che va indietro Tentare anche il tiro Comunque C'è addirittura Lejkovic Che avanza Ma Lejkovic La doveva Servire subito Il pallone Adesso Occia contro Piede Vi prego ragazzi Resistiamo Subire gol In contro Piede Sarebbe veramente Un peccato Chi bravissimo Lejkovic A rimediare Al suo stesso errore Buono il pallone In avanti Per il Lelichena Che era molto esterno Ma non riesce A mettere il pallone Al centro E purtroppo Arriva Il vantaggio Del Leganess Ancora Su una palla persa Da parte nostra Quindi ragazzi Gol Che ce lo siamo fatti Da solo Praticamente Comunque ragazzi Non ci voleva questo gol Perché Adesso sarà veramente Complicato Complicato Riuscire a ribaltare Questa partita Soprattutto perché Trovano il gol Del raddoppio Niente ragazzi Niente Purtroppo Questa partita Come ho detto Era assolutamente Da portare a casa Ma ovviamente Quando serve Non riusciamo mai A fare la vittoria Che potrebbe Darci uno slancio Per fare una stagione Diversa Da questa qui Che per il momento È veramente Un disastro Totale Comunque Il Lelichena Qua prova a calciare Ma viene Respinto Dal giocatore avversario Niente ragazzi Purtroppo Noi Siamo quella squadra Che fa una vittoria Ogni tanto Ma per il resto Non riesce Ad incidere Peccato ragazzi Peccato Qua ancora Che ci proviamo Addirittura con Serrano Ma non si riesce A segnare Il Lega Ness Riesce A difendersi Grazie soprattutto A proprio portiere Sinceramente Comunque Vediamo un po' Se si riesce A trovare il gol Ancora una volta Il portiere Che fa il miracolo La palla Che rimane Per l'ennesima volta Lì persa Persa malamente Da Chi è il 18 Con le Osho Ragazzi Con le Osho Non lo trovo Molto incisivo Per carità Anche Mollego Dall'altra parte Non mi sembra Molto incisivo Però Non so che dirvi Ragazzi Forse Visto che non abbiamo In modulo Con gli esterni Bisogna provare A giocare Con l'idea tattica Gioco sulle ali Però Mi sembrava Che il Tiki Taka Rispetto Al Gene Pressing Sicuramente Stava andando meglio Sta andando meglio Riusciamo a costruire Molto di più A parte oggi Che sicuramente Finiremo La partita Senza segnare Neanche un gol Però ragazzi In questi casi È veramente Complicato Comunque ragazzi Sconfitta per noi Oggi Proprio Non si doveva perdere Ma purtroppo Abbiamo perso Però comunque I nostri 7 tiri in porta L'abbiamo fatto Perché appunto Ragazzi Come detto Si riesce A costruire Ma purtroppo Non si riesce mai A portare a casa Delle vittorie Con continuità Qui un altro giocatore Che si lamenta Moia che effettivamente Non l'ho mai considerato Comunque Ragazzi Adesso ovviamente La situazione in classifica È drammatica Teoricamente Ci possono addirittura Scavalcare Quindi ragazzi Veramente È drammatica Al massimo La situazione A Guad Ufficialmente Se ne va Potevamo chiedere addirittura Un milioncino in più Però ragazzi Sinceramente Poco mi interessava Adesso voglio Andare avanti Vedere un po' In che posizione Concluderemo Questa puntata Diciottesimi Con 18 partite giocate 17 punti Non abbiamo neanche La media Di un punto A partita Comunque ragazzi Direi che per oggi Possiamo fermarci qua Nella prossima puntata Inizieremo Veramente Malissimo Perché affronteremo L'Espagnol Primo in classifica Intanto Ho già preparato La formazione Per la prossima puntata Che però Andrò a denunciarvi E a raccontarvi Nella prossima puntata Comunque ragazzi Come detto Nella prossima puntata Affronteremo L'Espagnol Questa qui L'amorevieta Il Levante Due volte Prima in campionato E poi in coppa Vabbè ragazzi In coppa Sinceramente Non mi aspetto nulla Prima usciamo Ma io è perché Bisogna veramente Concentrarsi sul campionato Comunque La quinta partita Sarà questa sfida Di campionato Contro L'Eldense E in più ragazzi Arriveremo anche Al mese di gennaio Quindi secondo me Non sono sicuro Che faremo Cinque partite Nella prossima puntata Perché Visto che abbiamo Anche venduto Aguado Qualche discorso Di calciomercato Andrebbe fatto E comunque ragazzi Io per oggi Mi fermo qua Come sempre Vi invito A lasciare un mi piace Iscrivervi al canale A seguirmi sulla pagina Instagram Al vostro sostenere Il canale Tramite un abbonamento E altra donazione Noi ci vediamo Alla prossima E ciao a tutti Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima